Venite con noi, questa protesta è anche per voi. Questo è il grido che si alzava domenica 24 febbraio di fronte al Parlamento di Sofia, dove decine di migliaia di bulgari si sono dati appuntamento per gridare la propria rabbia contro povertà, speranze di cambiamento tradite, collusione dello Stato con i monopoli, bollette e costo della vita insostenibile, in quella che è stata la manifestazione popolare più imponente degli ultimi 15 anni. Angel Slavchev, uno degli organizzatori della protesta, ci racconta il suo punto di vista su cosa accade in queste settimane nelle strade e piazze della Bulgaria. La Bulgaria si è svegliata, dimostrando che vuole lottare contro questa transizione criminale. La gente è stanca di essere rubata. A Sofia eravamo in 50.000, in tutto il paese, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza. Un risultato eccezionale se pensiamo che queste proteste sono tutte auto-organizzate sui social network. Ci spiegano che siamo un paese finanziariamente stabile, ma la verità è che i bulgari oggi non arrivano a fine mese. Le bollette della luce sono state semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In strada, a gridare la propria rabbia, anche molti giovani, in cerca di un motivo per non fuggire come hanno già fatto in tanti e restare a costruire il proprio futuro in Bulgaria, come Aleksandr Yordanov, assicuratore di Sofia. La mia protesta non è politica, ma economica e sociale. È una protesta contro il mancato rispetto di regole e leggi. Io riesco a pagare le bollette, ma il fatto che le compagnie distributrici, in combutta con i politici, mettano le famiglie con le spalle al muro per pagarsi stipendi vertiginosi, è semplicemente vergognoso. Oggi una delle poche cose che tiene in piedi la Bulgaria è il controllo esterno dell'Unione Europea. Evidentemente non siamo ancora in grado di governarci da soli. Le rivindicazioni della folla restano variegate e non sono ancora cristallizzate. Hanno dal nollo scioglimento del Parlamento alla richiesta di un governo di programma che dia risposta ai problemi del Paese. Dall'aduzione del sistema elettorale maggioritario alla sospensione di tutti i processi oggi pendenti verso gli utenti in debito verso le società di distribuzione di energie e riscaldamento. Quello che emerge chiaramente è però la voglia di qualcosa di nuovo, come ci dice l'imprenditrice Vanina Stojanova. Vogliamo un modello nuovo, come l'Islanda, in cui le posizioni di potere siano assegnate per competenza, come per gli altri posti di lavoro. La nostra protesta è sociale e politica e la decisione del governo Borisov di dimettersi conferma il disinteresse totale della politica nei confronti del Paese. È come un padre di famiglia che abbandona i propri figli. Dopo le dimissioni del governo Borisov, caduto proprio a casa delle proteste delle ultime settimane, le manifestazioni hanno assunto un carattere marcatamente antisistema. Al momento, però, sostiene Vlado Ionchev, direttore del portale Off News, lo sbocco del malcontento popolare resta un rebus ancora senza risposta. Questa è la rivolta dei disperati. Nonostante le speranze e gli sforzi di tanti anni, i bulgari continuano a vivere nella miseria. In questi quattro anni, le speranze suscitate da Borisov sono naufragate. Non solo il governo ha fallito, ma ha cementato gli interessi dell'oligarchia. Da queste proteste, difficilmente emergerà un nuovo movimento, un leader politico. Mi sembra però che i bulgari abbiano preso coscienza dei problemi e spero che da questa energia nasca un meccanismo efficace di controllo sul sistema politico. che organizano scotto dei controlli.